bene ritrovati ecco subito una nuova partita giocata pochi giorni fa in occasione del campionato a squadre polacco con il bianco abbiamo il maestro internazionale ucraino frolov e mentre con il nero il grande maestro polacco jakubowski ok vediamo un po' com'è andata questa partita quindi 4 c5 con l'f3 d6 magari già qualcuno ha visto oppure potrebbe aver intuito che siamo nel pieno di una delle più famosi varianti della siciliana ossia la famosissima variante neidorf questa è la posizione di partenza diciamo che in questo momento il bianco ha deciso di giocare la mossa con alfiere g5 ci sono tanti seguiti possibili di recente in occasione del tatastillo un fortissimo torno internazionale il giocatore francese maximo vascianagravo che è uno dei maggiori esperti di questa variante e ha deciso di giocare la variante con piedone avvelenato che vi consiglio di approfondire soprattutto per chi gioca la neidorf e quel bianco ha deciso di giocare donna e2 quindi regina e2 b5 mossa abbastanza logica e diciamo che chi gioca e questa apertura è sicuramente tantissimi anni fa e chi la giocava da nero era anche kasparov riconosciuto essere uno dei migliori giocatori al mondo all'epoca ma tuttora qualcuno dice ok kasparov probabilmente era più preparato di magnus carson e perché non aveva la stessa tecnologia la stessa possibilità di allenarsi di allenamento di informazione rispetto a magnus carson chi lo sa non lo sapremo mai in realtà e chi gioca l'apertura neidorf è un giocatore molto dinamico al quale piace attaccare spesso ci sono dei sacrifici di qualità prima o poi il bianco rocker a lungo e l'idea torre c8 torre per c3 fa parte delle idee principali della neidorf così come il bianco prima o poi deciderà di sacrificare un pezzo in b5 anche queste sono delle idee e allora vi rimando all'idea tipica e a questa idea tipica che è stata giocata e magari da magnus carson contro e si penco qualche settimana fa e quindi arrocco lungo donna c7 che chiaramente è una mossa senz'altro interessante il bianco e ha già risolto il problema o meglio ha già risolto la situazione del suo re quindi era al sicuro e ma l'era ha soltanto mosso dei pedoni e solitamente il nero potrebbe proseguire in tanti modi magari alfiere 7 cercando di arroccare anche lui e poi con arrocchi e contrapposti chi prima riesce ad attaccare e prendere iniziativa prima avrà un buon gioco posizione importante lo svolge la donna bianca in e2 questa regina in e2 punta il re avversario in realtà il bianco ha sempre qualche idea tattica in questo tipo di posizioni dovute al gioco su b5 perché potrebbe venire in mente al bianco un possibile sacrificio in b5 per prendere iniziativa ma in realtà anche l'altra idea potrebbe essere un possibile salto al centro quindi il bianco vuole probabilmente saltare in d5 in alcune linee sfruttando lo scacco che poi darà la propria regina al re avversario però vi dico subito che questa è una posizione molto complessa quindi è consigliata a chi abbia tanta voglia e tanto tempo per studiare l'apertura e quindi approfondire tutte le risposte del bianco e delle risposte del nero almeno le principali e allora sì potremmo essere in grado di giocare la nightgolf la partita prosegue in questo modo f4 b4 è una mossa logica però c'è da dire che sono tante mosse di pedone perché il nero ha fatto una e due con un b4 tre mosse e quattro cinque mosse di pedone mentre il bianco tranquillamente sta iniziando a creare armonia tra i suoi pezzi e qui arriva una mossa molto bella tematica dell'apertura sorprendente come cavallo d5 e qualcuno dirà ok che serve cavallo d5? beh l'immediato chiaramente dare uno sguardo al cavallo in f6 e alla donna in c7 in caso di cattura di cavallo riprendo di pedone e qui direi che il bianco può più che essere soddisfatto dell'apertura anche perché l'attacco su e6 è difficilmente difendibile e anche una mossa come d5 in realtà viene confutata perché non resta altro che catturare e a questo punto aprire la colonna contro l'avversario quindi la variante che utilizzo questa parola critica è senza altro la cattura di pedone che è poi la mossa della partita e vediamo quali sono state le idee perché pedone bianco cattura in d5 scacco a re le possibilità di movimento sono parecchie perché questo scacco si può difendere in realtà in due modi o con l'alfiere o con la donna oppure spostare re se il nero difendesse con la donna quindi con la regina cosa potrebbe fare il bianco? allora direi che qui il bianco per cercare un compenso deve cercare rapidamente di attaccare sulla colonna E e nel frattempo cercare di approfittare del fatto che il nero per tante mosse non riuscirà ad arroccare perché questa donna in d7 ostacola l'alfiere allora di conseguenza l'arrocco corto sarà più difficile da eseguire e allora direi che donna c4 potrebbe essere la mossa che cerchiamo donna c4 attacca l'alfiere in c8 quindi pezzo indifeso mi fa guadagnare un tempo libera la colonna alla torre occhio perché per adesso la torre non può andare in e1 altrimenti verrebbe immediatamente eliminata e cosa importante minaccia anche il contatto con b4 quindi in caso di alfiere d7 che vuole difendere l'alfiere non resta altro che giocare alfiere d3 e alla successiva magari entrare in e1 ok questa è una posizione molto complessa perché il bianco è disposto a entrare in queste varianti e perché poi diciamo se l'attacco sfuma ma è molto difficile che qui l'attacco del bianco possa essere difeso e il bianco mangia dei pedoni quindi avrà 2-3 pedoni per il pezzo sacrificato e quindi anche in quel caso potrà essere soddisfatto in questa posizione l'attacco del bianco è veramente forte perché qui probabilmente cavallo c6 è abbastanza minacciosa sto minacciando la donna e in caso di cambio riprendo di pedone sto minacciando questo alfiere l'alfiere si sposta magari torre 1 e continuo ad attaccare su alfiere 7 immagino che anche torre per 6 pedone per donna per possa portare a posizioni molto complesse si gioca sul fatto che il re in questo momento sia rimasto al centro chiaramente è un gioco molto complesso e dinamico dove chiaramente ogni volta che un giocatore sacrifica un pezzo deve essere certo che il seguito possa portare a qualcosa altrimenti cambiare tanti pezzi non è la scelta più corretta se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco allora vienici a trovare all'interno dell'accademia di vantoscacco mi viene in mente che dopo donna di 8 anche torre 1 è una buona scelta perché su alfiere 7 per evitare che l'arrocco corto del nero sia una mossa sicura il bianco cattura e dopo la cattura potrebbe seguire semplicemente cavallo c6 come prima oppure approfittando del fatto che questo re quando arroccherà non sarà al sicuro magari l'idea potrebbe essere giocare a mosse un po' più strane comunque cavallo c6 senz'altro va bene creiamo una minaccia immediata l'obbligiamo alla cattura io riprendo lui mi riprenderà e a questo punto alfiere 6 la mossa che dovrebbe fare se io giocassi donna e4 è chiaro che questo re del nero almeno per adesso restare al centro probabilmente potrei anche provare altri seguiti anche donna per b4 e poi si verifica un po' la situazione che dicevo prima se l'attacco del bianco sfuma il bianco deve essere almeno in grado di catturare un paio di pedoni ma qui preferirei senz'altro essere il bianco perché questo re non si trova bene è chiaro che il nero ha la coppia degli alfieri ma deve organizzare con calma i suoi pezzi altrimenti questa non posizione è compromessa in partita il forte grande maestro Jakubowski ha giocato alfiere 7 per difendere e a questo punto alfiere per f6 il pedone per f6 rovina la struttura pedonale occhio che qui c'è soltanto un parziale di un pedone per il pezzo sacrificato e allora è il momento di fare mosse attive e qui arriva la prima mosse attiva donna h5 e donna h5 impedisce che il nero possa mettere al sicuro perché ci sono tante confutazioni ma la più rapida dopo a rocco corto è senz'altro alfiere d3 alfiere d3 cercando di giocare donna per h7 matto bisogna chiudere questa diagonale e allora interviene il pedone ma anche qui io catturo catturerò in f5 di cavallo di alfiere adesso a questo punto entrambe andranno bene probabilmente di cavallo porterà al matto più velocemente perché la minaccia è donna g4 e donna per g7 e in caso di cattura alfiere per riproponendo lo stesso tema di prima di fatto l'arrocco corto qui sarebbe anche molto rischioso perché ci saranno anche altre idee di attacco ad esempio portare una torre sulla terza traversa da lì di fronte all'avversario per attaccarlo la partita dunque è continuata così donna h5 f5 f5 vuole chiudere questa diagonale in futuro magari si vuole arroccare oppure l'altra idea potrebbe essere dare una casa all'alfiere per svilupparla l'alfiere d3 da parte del bianco come dicevo il bianco se l'attacco sfuma deve essere materialista allora con due pedoni per il pezzo leggero quindi per alfiero cavallo con il re avversario al centro della scacchiera può più che essere soddisfatto quindi alfiere f6 scacco il re si sposta alfiere per f5 è arrivato il secondo pedone allora a questa posizione il bianco diciamo può essere soddisfatto il re non si trova bene i pezzi del nero non sono coordinati tra loro e il bianco mantiene sempre quell'iniziativa fastidiosa infatti qua gioca una mossa molto affascinante donna h6 donna h6 attacca il pezzo indifeso e questo è sempre un tema ogni volta che attaccate o avete la sensazione di attaccare individuate i pezzi indifesi dei vostri avversari poi cercate di attaccarli e di migliorare la posizione dei vostri pezzi in caso di alfiere per d4 seguirebbe torre per e occhio perché donna f6 scacco è pressoché decisiva adesso l'idea è giocare donna f6 e catturare la torre quindi torre e8 e la mossa è necessaria però dopo donna f6 si obbliga a torre 7 e a questo punto il matto è inevitabile perché arriverà scacco il re non può fuggire la torre deve tornare indietro per difendere ma è tardi perché arriva la donna vincente con scacco a re dunque dopo donna h6 il nero riconosce l'alfile in f6 bisogna spostarlo torna indietro e donna g7 attaccando nuovamente il pezzo indifeso infatti qua diciamo che il bianco prende di mira i pezzi indifesi e rapidamente riesce a sfruttarli e alfiere per c8 questa è la mossa della partita e quindi dopo torre f8 alfiere per c8 quindi donna c4 cercando di creare delle possibili minacce e contro giochi in caso di in caso di re per e la tattica arriverà sul fatto che questo alfiere è in sovraccarico quindi se io riuscissi ad attaccare l'alfiere tipo così minaccio la cattura e se lo si sposta in realtà perde la difesa della torre e allora se lo difenderà con la torre arriverà anche il terzo pedone ma in realtà arriva un terzo pedone con gli interessi perché poi qui l'iniziativa sarà molto forte sia contro e7 che contro la torre in e8 allora tornando indietro quindi in questo momento è stata giocata alfiere per c8 donna c4 per preparare torre c7 ma qui è troppo tardi arriva la combinazione finale torre per e7 allora su torre per e7 in caso di re per e7 segue la semplice scacco in e1 e quando stiamo attaccando le prime mosse da analizzare sono le mosse che danno scacco ed effettivamente qui torre 1 scacco il re si deve spostare e dopo donna per f8 il bianco resta con un vantaggio di un pezzo e c'è da dire che se vi ricordate proprio in apertura sacrificate un pezzo quindi è notevole poi questo risultato allora dopo torre per e7 la partita continua con torre per e7 quindi donna per f8 scacco e si difende con la torre la donna cattura il pedone e dopo donna per f7 ne rabbandona per quale motivo? allora questo re è in una situazione sovraccarico difende la torre o dà uno sguardo alla difesa in caso di donna per c8 perché è l'unico modo per eliminare questa alfiere della scacchiera seguirebbe semplicemente cavallo e6 scacco il sacrificio di qualità torre per e6 è dovuta è obbligata però dopo pedone per e6 questo pedone rapidamente raggiungerà la promozione quindi apertura molto interessante molto complessa e partita notevole da parte di Froloff con il bianco quindi rivediamola dall'inizio è stata un'apertura Neidorf un'apertura molto tagliente e molto complessa sia dal bianco che da nero e ricordiamo ricordo nuovamente che il giocatore con il nero è il giocatore che deve cercare di complicare il gioco quando gioca la Neidorf e il bianco diciamo cerca sempre di creare degli squilibri e questi squilibri avvengono tipicamente e tematicamente col sacrificio di cavallo in b5 oppure con mosse strane tipo questa la cui idea è dare un pezzo per un pedone che poi in realtà diverrà un pezzo per due pedoni con l'idea di sfruttare la posizione in difesa del re avversario quindi questa posizione sposta dopodiché la partita è andata in questo modo l'alfiere in f6 sembra forte ma in realtà stona un po' con quanto c'è in partita perché dopo lo scacco il re si sposta per giustificare la mossa al f6 e dopo donna h6 si attacca un pezzo in difeso l'alfiere torna indietro attacchiamo non avendo un altro pezzo in difeso la torre si sposta ma a questo punto dopo l'alfiere per c8 crolla un po' tutto chiaramente ci sono tante variabili e possibilità per il nero però ormai è tardi adesso dopo torre per e7 che è la mossa risolutiva la partita si conclude così e diciamo che l'attacco del bianco va in porto probabilmente questa mossa b4 da parte del nero collegata all'idea di giocare donna c7 sono state un po' le imprecisioni quindi partita notevole da parte del bianco spero che vi sia piaciuta a me è piaciuta tantissimo e le informazioni le trovate sempre nella descrizione del video grazie a tutti e alla prossima e ora per continuare che cosa posso fare? beh innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni e poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana ci vediamo ciao 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 Grazie a tutti.